Ora sta bene l'ottantenne fanese uscito di casa questa mattina presto in stato confusionale ritrovato al riverso in un campo in una pozza d'acqua di una ventina di centimetri nel quartiere di San Lazzaro e dove sarebbe potuto annegare se non fosse stato tratto in salvo tempestivamente. L'uomo che vive nel quartiere del Poderino soffre da tempo del morbo di Alzheimer per questo è seguito ed accudito amorevolmente da due persone costantemente ma questa mattina in un brevissimo lasso di tempo avrebbe preso l'uscio di casa e si sarebbe allontanato. Grande camminatore da sempre è arrivato fino al quartiere di San Lazzaro ma perdendo il senso dell'orientamento e finendo così nel campo. Siamo in fondo via Montessori, qui finisce la strada ed inizia il campo. L'uomo era riverso Bocconi in quella pozzangra d'acqua, sono diversi centimetri d'acqua, era semisommerso, era semicosciente anche al momento in cui è stato soccorso e demetteva dei fiebili rantoli. Ad accorgersi della sua presenza è la titolare del negozio di frutto e verdura che ogni mattina prima dell'apertura parcheggia qui la sua autovettura, proprio in questa strada. Sentivo tossire ma una tosse strana, sembrava un animale. Mi giro e vedo un mucchio, un istrice, non riuscivo a capire che cos'era, ho cominciato a tremare, ho detto oddio, oddio che cos'è, cosa non è. Volevo chiamare l'ambulanza, non riuscivo a capire che cos'era, se era una persona o se non era una persona. Sono corsa qui da mio marito perché io non ho avuto il coraggio di andare. Come è andato giù ho visto che c'era questo anziano a pancia sotto, dentro l'acqua che si stava praticamente affogava. Mi fa chiama l'ambulanza, chiama l'ambulanza, chiama l'ambulanza, non riuscivano neanche loro né a tirarlo su né a girarlo né niente. Quindi hanno chiamato i pompieri e praticamente l'hanno tirato su, poi l'hanno caricato in ambulanza e non so più niente. Immediati i soccorsi sul posto sono arrivati il 118 e i vigili del fuoco con una potente idrovora per drenare l'abbondante acqua nel campo e soccorrere così l'uomo che non ha mai perso conoscenza. È stato poi portato al pronto soccorso del Santra Croce per gli accertamenti e gli esami necessari, ma a parte una leggera ipotermia l'anziano gode di buona salute ed anzi, alla vista dei suoi parenti, ha anche riacquistato il buon umore. Ultimamente la malattia ha progredito velocemente e non è mai accaduto un episodio del cenere, anche per questo grande apprezzione da parte della sua famiglia. Sulle tracce dell'ottantenne sin dai primi momenti della sua scomparsa anche il figlio, che preoccupato però, non riusciva a rintracciarlo all'interno del quartiere e mai avrebbe pensato di cercarlo così a tanta distanza da casa. Una telefonata dei carabinieri, anch'essi giunti sul posto con una pattuglia alle 9.30 circa, gli hanno comunicato del ritrovamento dell'anziano genitore scompasso ed in osservazione nella stanteria del pronto soccorso dell'ospedale di Fano. Da lì a poco il ricongiungimento e la gioia per lo scampato pericolo.